Buonasera, siamo con Matteo Bosis di Kaspersky Lab, esattamente responsabile delle vendite retail di Kaspersky che ci racconterà innanzitutto chi è Kaspersky. Parlaci di Kaspersky in generale. Kaspersky Lab nasce più di 15 anni fa in Russia per l'idea di Eugen Kaspersky, quindi il nome è proprio del fondatore. Siamo in Italia da 5 anni, l'azienda è presente in 200 paesi al mondo e più di 350 milioni di persone utilizzano i nostri sistemi di sicurezza. In Italia, come dicevo, siamo tra i leader di mercato delle sicurezze informatiche. Perché la sicurezza è importante e perché è importante soprattutto per le aziende? Allora, la sicurezza è importante perché all'interno dei nostri device abbiamo tutta una serie di informazioni importantissime, dati personali, dati bancari, acquisti online, dati di carte di credito. Quindi gli hacker in questo momento sempre di più non bloccano il nostro computer ma entrano dentro il nostro computer e rubano queste informazioni per poi rubarci l'identità digitale e i nostri soldi. Quindi sempre più importante è potersi proteggere da queste minacce. Lo stesso vale per le aziende che devono proteggere i dati? A maggior ragione, se noi abbiamo un dato importante, le aziende hanno centinaia e migliaia di dati che devono preservare e quindi è ancora più importante per le aziende essere sicuri e protetti. Come state sentendo da questa simpatica musica in sottofondo? Siamo durante un evento, l'evento di Kaspersky che si tiene questa sera nello Swiss Corner di Piazza Cavour a Milano e spiegaci il perché di questo evento. Allora, questa sera presentiamo alla stampa in anteprima un nuovo prodotto di Kaspersky che si chiama Kaspersky Internet Security Multi-Device. Ecco, facciamo vedere un'immagine di questo nuovo prodotto che andate a presentare, dimmi. Questa è una novità perché all'interno di una licenza c'è la possibilità di coprire tutti i nostri device quindi dal PC al smartphone o al tablet Android e al prodotto Mac. Quindi diamo una copertura completa su tutti i device che l'utente può avere in casa. Quindi questo è molto importante perché è il primo prodotto che lanciamo di questo tipo. Quindi con una copertura molto accentuata o non necessariamente comunque importante anche sul mobile. Assolutamente sul mobile perché poi il cliente può decidere con queste tre licenze di coprire i device che ha in casa. Quindi può scegliere due PC e un prodotto Android, due prodotti Mac e un prodotto PC. Quindi può gestire lui e organizzare lui il prodotto come meglio crede, crearsi proprio un vestito ad hoc per le proprie esigenze. Quindi una sicurezza veramente customizzata dal cliente. Assolutamente sì. Va bene, ringraziamo Matteo Bosis per questa veloce presentazione dell'evento di stasera e sicuramente poi leggerete, approfondirete il tutto e vi informeremo meglio anche su quanto ci andranno a presentare. Grazie a voi. Grazie a voi.